Tre giorni dedicati alle vaccinazioni con il vaccino Pfizer negli hub della provincia, l'iniziativa dell'Aspenissena per incrementare la campagna vaccinale venerdì, sabato e domenica in tutti gli hub della provincia e sarà possibile essere vaccinati in Open Day. Nell'hub del CEFPAS venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19, al centro commerciale Il Casale venerdì e domenica dalle 9 alle 19, all'ambulatorio vaccinale Immacolata Longo di Mussomeli venerdì dalle 15 alle 19, nell'area sud all'hub vaccinale Palaco, Siga di Gela venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19, all'ambulatorio vaccinale di Niscemi venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 13.